Io vorrei che ci fosse un Islam moderato, purtroppo faccio fatica a trovarlo e faccio fatica a vederlo, anche le manifestazioni di settimana scorsa, l'Islam che è sceso in piazza, ho sentito delle condanne troppo moderate, non basta condannare, non basta scendere in piazza, lo diceva bene prima la Gelmini, bisogna denunciare, i primi che devono denunciare gli imam pericolosi all'interno delle proprie moschee, sono esattamente coloro i quali fanno parte di quella religione. Non mi pare, io sono lombardo, in Lombardia abbiamo moschee che sono state oggetto di attenzione da parte dell'intelligence, da parte delle forze dell'ordine, imam che sono stati espulsi e allontanati dal territorio italiano. Non ci sarebbe un'intelligenza inutile se non ci fosse anche la collaborazione di coloro i quali sono dentro le moschee, però tu vorrei dire, facciamo finire molte anni che devo chiudere tra l'altro io questa parte. Cito la moschee di Viale Yenner, cito la moschee di Como, io sono comasco, a Como c'è un centro culturale islamico utilizzato come moschea dove i due imam sono stati espulsi all'epoca dal Ministro Pisano perché ritenuti particolarmente pericolosi, cito la moschee di Gallarate, di Cremona, quindi io vorrei che ci fosse più islam moderato, però il primo atteggiamento deve venire ovviamente da loro.